La francese Autostar ha fatto del motorhome a scocca integrale il suo cavallo di battaglia iniziando a costruire camper di questo tipo già negli anni 80 ha acquisito una notevole esperienza in questo ambito. E per capire fin dove può arrivare Autostar abbiamo deciso di testare il suo prodotto più esclusivo il motorhome Prestige i790LJ Design Edition. Si tratta di un camper di generose dimensioni che si rivolge a chi vuole tanto spazio a bordo ma è anche un camper che offre soluzioni tecnico-costruttive di elevato livello. La lunghezza è notevole, sfiora gli 8 metri, si mantengono invece su valori standard la larghezza e l'altezza rispettivamente di 231 e 292 cm. Su strada è sicuramente di supporto la base meccanica scelta da Autostar. Il Fiat Ducato viene proposto con il brioso motore da 160 CV ma viene anche adottato il telaio extra serie Alco stabile e robusto di grande portata e con un passo da 450 cm. La dotazione di serie include ABS, ESC, Cruise Control, due airbag anteriori, sistema start and stop e fari full led. Viene anche proposto l'esclusivo sistema full vision 360 gradi che grazie a quattro telecamere permette di controllare il veicolo da ogni lato sia in sosta che in movimento. Dal punto di vista costruttivo il Prestige i790LJ si fa notare per diversi motivi. Prima di tutto osserviamo la presenza del doppio pavimento con intercapedine riscaldata di elevato spessore in cui sono inseriti anche i serbatoi dell'impianto idrico. Il doppio pavimento non serve solo ad alloggiare l'impiantistica ma mette a disposizione anche dei vani di stivaggio. Sono infatti previsti due gavoni passanti bassi ma molto profondi che occupano tutta la larghezza del veicolo. Per caricare le biciclette o uno scooter abbiamo a disposizione nel garage posteriore ampio e di forma regolare. Come sugli altri modelli Autostar il vanno di carico ha il rivestimento del fondo in bed liner un materiale decisamente resistente. Le guide per gli occhieli di fissaggio del calico non sono sporgenti ma incassate nel pavimento. Nel garage troviamo anche una presa a 230 volt. Uno sportello mette in comunicazione il garage con l'abitacolo. La scocca è realizzata in pannelli sandwich isolati termicamente in styrofoam e rivestiti esternamente in alufiber materiale che unisce i pregi dell'alluminio e della vetroresina. La lufiber ha infatti una brillantezza protratta nel tempo ma ha anche una buona resistenza alla grandine e ai piccoli urti. La porta di ingresso ha la chiusura centralizzata, la finestra integrata, il cesto porta rifiuti e la zanzariera scorrevole. L'Autostar Prestige Istat 190 LJ riesce a farsi notare anche per la parte impiantistica. Per prima cosa offre il pregevole sistema di riscaldamento ad acqua alde. I convettori perimetrali garantiscono un clima ottimale nella stagione fredda. Appositi convettori riscaldano anche la zona più fredda dell'abitacolo, quella della cabina, portando il calore anche su per la brezza. La stufa alde è alimentata a gas. Il vano bombole è ribassato facilmente accessibile con uno sportello sulla fiancata destra. I serbatoi dell'impianto idrico sono inseriti nel doppio pavimento riscaldato protetti dal gelo. Il serbatoio delle acque chiare arriva a 180 litri, un valore decisamente elevato. Il serbatoio delle acque grigie è invece da 110 litri. In merito all'impianto idrico segnaliamo anche il vano tecnico sulla fiancata destra che raggruppa in un unico punto i bocchettoni e le valvole per il carico e lo scarico dei serbatoi. È previsto anche l'attacco rapido per la docetta esterna. È inoltre previsto un vano per alloggiare una seconda cassetta di recupero del WC. L'idea di raggruppare vari elementi in un solo punto viene ripresa anche nell'impianto elettrico. In una botola del doppio pavimento infatti è collocato il cosiddetto power box che comprende batteria ausiliaria, carica batterie, interruttori elettrici e scatola fusibili. All'interno possiamo osservare un arredo dalle forme moderne con una buona armonia tra elementi piani ed elementi curvi. Sono sicuramente d'effetto i piani di forte spessore così come sono d'effetto le tonalità decise, i mirati contrasti cromatici e il gioco di chiari e scuri per far risaltare le ante lucide. L'arredo dotato di feritoie e griglie ben si abbina al riscaldamento alde e permette una perfetta circolazione del calore. Varcata la soglia d'ingresso ci troviamo davanti in un ambiente aperto, la sensazione di spazio è piacevole e ci si muove agevolmente. Questo grazie alla presenza della dinette face to face e della cucina che prosegue lungo la linea del divanetto. Il tavolo a sostegno centrale ha il piano di forma ovale di buone dimensioni, traslabile e rotante. È possibile trasformare i divani longitudinali in sedute fronte marcia. All'interno dei divanetti infatti sono nascoste due poltroncine comode per il viaggio con lo schienale regolabile e gli attacchi isofix. La trasformazione non è particolarmente complessa. La cucina è un elemento chiave dell'abitacolo, è gradevole alla vista e funzionale nell'utilizzo. Non è una cucina particolarmente ampia in rapporto alle dimensioni del veicolo ma passo dopo passo se ne apprezzano le qualità. Per quanto riguarda le sue dimensioni dobbiamo osservare che la larghezza è piuttosto contenuta ma la profondità è superiore al normale. Il piano d'appoggio non è affatto scarso e il fornello a gas è utilmente arretrato dal bordo. Anche su questo veicolo di alta gamma Autostar propone un gruppo cottura a due fuochi. È una scelta ben precisa per avere due fiamme molto distanziate tra loro che permettono di appoggiare senza problemi le pentole oltretutto sostenute da una griglia molto stabile. La ventilazione della cucina è ottimale perché abbiamo la cappa aspirante in aggiunta alla finestra e al maxi oblo a tetto. Anche il lavello tiene il massimo dei voti perché non è solo scenografico ma anche pratico. Ampio e profondo è abbinato ad un rubinetto di qualità alto e con la possibilità di orientare il getto d'acqua. Sicuramente d'effetto la cornice retroilluminata con vano portaspezze incassato. Per quanto riguarda lo spazio per contenere pentole, stoviglie e cibo conservabile abbiamo a disposizione due pensili e tre ampi cassetti. Abbiamo un ulteriore cassetto sotto il divanetto. Il frigorifero trivalente Tethford è di grande capacità e ha la cella freezer separata. La zona notte posteriore è molto sviluppata e comprende la camera da letto e il bagno passante. Il bagno fa da filtro tra zona giorno e camera da letto con un sistema di due porte, una scorrevole e una adanta. Per bloccare in maniera stabile la porta adanta ed evitare vibrazioni è previsto un sistema magnetico. La parte centrale del bagno può essere utilmente sfruttata come spogliatoio, lo spazio non manca. Il bagno è diviso in due parti. Nel vano principale troviamo il lavabo e il wc, oltre a molti scomparti per riporre i vari oggetti da bagno. La doccia è indipendente e ha dimensioni che possiamo certamente definire ottime. È arieggiata da un oblò a tetto, è dotata di una pedana in legno e anche di uno scalda salviette collegato al riscaldamento. La camera posteriore mette a disposizione due letti singoli che si fanno notare per tutta una serie di caratteristiche. Per prima cosa sono molto lunghi, ben oltre i due metri. I materassi memory foam di forte spessore sono contornati dal riscaldamento perimetrale Alde, per un ottimo comfort invernale. È davvero tanto lo spazio per l'appoggio di oggetti piccoli o grandi, sia nelle mensole terminali, sia nel piano centrale che separa i due letti. Sotto ai letti sono ricavati due armadi accessibili sia dall'alto sia dallo sportello frontale. Il volume di stivaggio per gli abiti è davvero elevato e si aggiunge a quello dei pensili. L'autostar Prestige i790LJ garantisce altri due posti letto nella parte anteriore dove troviamo il matrimoniale basculante a sollevamento manuale. È arieggiato naturalmente da un oblò a tetto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!